buonasera fratelli e sorelle allora riprendiamo anche la catechesi degli adulti che quest'anno sarà incentrata sul libro del profeta amos questo video però lo faccio per darvi alcune informazioni per quelli che vogliono partecipare alla catechesi attraverso il computer attraverso il collegamento online quindi ripeto che la catechesi sarà fatta venerdì alle ore 21 e 15 in doppia possibilità o venire qui in parrocchia in presenza oppure appunto seguire tramite le piattaforme di videoconferenza e ora un po vi spiego come fare allora io ho messo e sul sul sito della parrocchia o due modalità per accedere poi ci sarà una terza modalità che anticipo subito per coloro che sono iscritti al canale telegram della parrocchia metterò direttamente il link di collegamento sul canale telegram della parrocchia il link è tipo quello che si usava quando si facevano le dirette streaming delle messe con la differenza che invece di collegarvi a youtube e guardare l'evento tramite youtube sarete collegati direttamente alla piattaforma di videoconferenza che io sto usando che si chiama 8x8 per usare questa piattaforma non c'è bisogno di scaricare nessun programma nessuna applicazione anche sul cellulare come vi farò vedere ma basta cliccare sul link che vedrete e tramite i browser di internet consigliato è chrome ma mi sembra che vadano bene anche gli altri ci si collega direttamente nella pagina di videoconferenza ovviamente molti di voi sapranno già come funzionano queste piattaforme la prima cosa che vi verrà chiesta è ovviamente di dare l'assenso per l'uso dell'audio cioè del microfono e della telecamera e poi vi verrà chiesto di loggarvi come si dice con un vostro nome con un vostro nickname non sono richieste né password né appunto programmi particolari e specifici e allora vediamo subito quello allora che ho preparato se andate sul sito della parrocchia avete due possibilità una è quella solita che si usava per collegarsi con le dirette streaming cioè andare sul calendario parrocchiale nel calendario parrocchiale vedete ho già messo l'appuntamento catechesi degli adulti basta cliccarci sopra e vedrete che viene fuori un link questo qua 8 per 8 per 8 punto vc slash sacro cuore romito slash cat adulti basta cliccarci sopra e vedrete che sarete trasferiti sulla piattaforma streaming ecco che è questa ora ovviamente a me mi collega in automatico a voi magari vi chiederà di mettere il nome la seconda modalità direi che scusate la parola è un po a prova di imbecille che è ancora più facile io vedete qui ho messo sempre nella pagina iniziale della catechesi degli adulti catechesi degli adulti online cliccate qua sopra sarete indirizzati in questa pagina dove vedrete direttamente dove sarete direttamente collegati certo l'immagine qui è un po più piccola vedete qui dovete mettere il vostro nome e accedere tramite join meeting vi faccio vedere anche come funziona dal cellulare che è un po la stessa cosa ecco qua al mio cellulare anche qui potete usare la stessa modalità andando sul sito della parrocchia ecco vedete qui siete sul sito della parrocchia anche qui catechesi degli adulti online cliccateci sopra sarete rimandati a questa pagina la metto in orizzontale così si vede meglio ecco qui vedete che vi chiede di scaricare l'applicazione ma non fatelo non fa non c'è bisogno è basta che pigiate su sul terzo pulsante blu dove c'è scritto launch in web pigiate qui sopra vedete vi chiede di di acconsentire al microfono e alla fotocamera vi chiede di inserire il vostro nome io vi metto ma mettiamo pippo invio e vedete anche in questa maniera io sono collegato l'unica avvertenza è che quando finirà qui la la catechesi è che usciate pigiando il tasto rosso ecco mi sembra che le cose siano estremamente facili quindi davvero vi aspetto io sto registrando qui giovedì sera vi vi aspetto domani sera quindi venerdì alle 21 e 15 per la catechesi degli adulti sul libro di amos buona serata a tutti grazie Grazie a tutti